Con mister Marco Zaffaroni al termine di Cuneo Monza, terminate con la vittoria dei Lombardi per 2-1. Allora mister, in campo abbiamo visto una squadra lombarda che è partita bene, poi forse siete calati un po' nella parte centrale, ma avete comunque trovato una vittoria che fa bene, anche in funzione della classifica, perché ora diciamo avete un piede nel passaggio del turno. Sì, questo è vero, poi abbiamo fatto nel complesso una buona partita, come ho detto devono essere delle tappe di avvicinamento al 27 quando inizia il campionato, quindi è importante fare partite vere come questa che ci avvicinino sempre di più al clima di quello che troveremo durante l'anno. e quindi è stata una buona tappa da questo punto di vista, ha fatto delle cose buone, certamente delle cose da migliorare, però ripeto, nel complesso siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto.